Mi diceva sempre, quando ero piccoletto che andavo lì a portarli le camicie perché lavoravo in puntoria a Pischeletto che andavo all'armura, mi diceva sempre, mi raccomando, mangia il sedano perché il sedano ti fa diventare uomo e sei molto più, come si dice, non lo voglio dire. A un certo punto dico sempre, ma voi lo sapete la differenza tra una supposta e un carciofo? No! Prova! Prova! E prova, no? Ha un carciofo di qua! Alessine! Tu lo sai qual è la scusa, stiamo facendo un'intervista a tutti questi personaggi, che farà altro? Non si sa perché sono agriente, agriente!